Questa mattina Francesco Roberti, candidato del centro-destra, ha partecipato alla presentazione della lista dell'Udc presso il Centrum Palace di Campobasso. Una lista creata seguendo valori che, secondo l'onorevole Cesa, saranno fondamentali per il rilancio della Regione. Il nostro contributo sarà un contributo di responsabilità, di concretezza, di buonsenso, cosa che serve molto in una coalizione, e portare all'interno anche dell'istituzione regionale a difesa di alcuni valori che sono dietro lo scudo crociato.